Chiama Zobbe, andiamo su Zobbe, apri l'applicazione, eccola qua, con questo si possono fare dei piccoli video con la tua voce e poi dire quello che vuoi, per esempio, per farvi subito un esempio, prendiamo questo, ecco qua. Io sto registrando qualcosa, poi così si salva, ecco qua, qua la puoi sentire l'anteprima, puoi modificare la voce. Io sto registrando qualcosa, poi così si salva. Vedi, così, io sto registrando qualcosa, poi così si salva. Clicchi su Continua e ti crea l'animazione. Ecco qua, ci vuole ovviamente un po' di tempo, qualche minuto, il tempo che l'applicazione viene creata. La salva, gli dà il nome, adesso la chiamo Prova, perché sto facendo solo una prova. Io sto registrando qualcosa, poi così si salva. Segui, clicchi su Salva, ecco qua, e poi ti fai il download e te la salva sul tuo telefono. Ecco qua, una volta salvata, la puoi condividere tramite i social, su WhatsApp, Facebook, Messenger, vedi, altro, di nuovo. Tutti, puoi condividere con chi vuoi. Oppure la puoi salvare sul, sul, direttamente sul Marketing Zob. Metti un tag, e poi clicchi su Pubblica, che adesso non la salvo, perché questo è solo per Prova. Oppure, la puoi, ne puoi creare un altro, sembra con la stessa, la puoi modifica, la puoi cancellare. E niente, questa, come vedi, è una bella applicazione. Puoi scegliere i temi, da cosa, i miei temi, se tu hai già fatto l'applicazione. Stagione, musica, felice, amore, arrabbiata. E poi, premio, probabilmente, sono un'applicazione a pagamento, perché così sono un'applicazione a pagamento. Cioè, per avere alcune di queste, di queste scenette, devi pagare. Vediamo se questo è a pagamento, come vedi, queste sono 99 centeli. Ma ce ne sono anche gratis. Vabbè, ciao, alla prossima applicazione. Andiamo a bloccarla. Dove sta? Questa.